A Sondrio, giovanissimi protagonisti di risse e vandalismi in centro, neanche le ragazze si sottraggono, il comandante della polizia locale, spia di un disagio figlio del lockdown, dialogo con le famiglie. Spaccata notturna in un grande magazzino di elettronica bianzone, i ladri rubano una ruspa e sfondano la vetrata, braccati dai carabinieri e dalla vigilanza perdono parte della refurtiva nella fuga. Nel convegno dell'ufficio scolastico, istituzioni a confronto sugli effetti prodotti da un anno di emergenza sanitaria, ceconami fare rete all'arma vincente, molinari per i ragazzi, occasione di conoscenza. Nei guai amministratore di condominio tiranese, dai conti di oltre 20 stabili avrebbe fatto sparire 284 mila euro. La finanza lo indaga per appropriazione in debita e reati tributari, sequestrati due appartamenti. Buonasera a tutti, in apertura parliamo di vandalismi perché nemmeno la città di Sondrio è immune da risse e vandalismi tra adolescenti. Lo rivela il comandante della polizia locale di Sondrio nella puntata del telescopio, in onda stasera alle 19.45 e venerdì alle 21.20. Nel Tg di domani vi proporremo il bilancio annuale d'attività condotta in sinergia con gli altri corpi e la protezione civile, ma partiamo dall'emergenza giovanissimi. Niente caos da movida o eccessivi assembramenti, la buona condotta dei cittadini sondriesi ha scongiurato in questi mesi il rischio di fenomeni che potessero essere potenziale occasione di trasmissione del contagio. La polizia locale del capoluogo, tuttavia con scopo preventivo ancora prima che repressivo, ha sempre assicurato il controllo insieme alle altre forze dell'ordine dialogando con i cittadini e gli esercenti. Quello che preoccupa oggi, ammette il comandante Mauro Bradanini, è l'intemperanza degli adolescenti, ragazze comprese, che anche a Sondrio ha registrato negli ultimi mesi, in particolare nella zona della Garberia, alcuni episodi. La spia di un disagio che deriva dalle prolungate privazioni. Per quanto riguarda gli assembramenti, in questi ultimi periodi posso dire di aver verificato un qualche disagio da parte della popolazione giovanile, soprattutto dei più piccoli. Siamo intervenuti recentemente in qualche luogo della città per sedare qualche ris, qualche episodio di danneggiamento anche di beni pubblici e ho potuto notare questo. Ecco, molto probabilmente questa fase prolungata di lockdown e anche di chiusura delle scuole ha sicuramente generato una situazione di disagio nei giovani, anche il riferimento, come mi testimoniano i loro genitori, che ho chiamato in ufficio, la chiusura dei luoghi di aggregazione, pensiamo allo sport, pensiamo allo sport. I ragazzi ne hanno sofferto molto e ne sono evidenza alcuni episodi che ho narrato prima. Io spero che quanto prima la ripresa della scuola e la riapertura dei luoghi di aggregazione, soprattutto sportiva, possano riportare i ragazzi a una relazione di normalità. Spaccata la scorsa notte a Bianzone, preso di mira un punto vendita di materiale elettronico alle porte del paese, i malviventi per aprirsi un varco hanno utilizzato un mezzo a riete. Vediamo. Utilizzare una ruspa come a riete per aprirsi un varco e mettere a segno il colpo, modalità abbastanza rare in provincia di Sondrio. Tutto è accaduto nel cuore della notte, nel tiranese. Prima il furto di un mezzo da cantiera avvenuto a Villa di Tirano. Poi il blitz compiuto nel punto vendita expert di Bianzone, vicino alla strada del 38. L'allarme è scattato poco prima delle tre. Subito è intervenuta una pattuglia dell'Istituto di Vigilanza di Sondrio e Provincia, storica azienda del capoluogo valterinese. Quando è giunta sul posto la ruspa era ancora lì e probabilmente anche i ladri. I rinforzi sono arrivati rapidamente dalla compagnia carabinieri di Tirano. Una risposta così rapida da mettere in serie difficoltà i malviventi che, sentendosi braccati, hanno deciso di tagliare la corda, liberandosi anche di parte dalla refurtiva. In un campo poco distante è stato infatti rinvenuto un sacco con all'interno una quarantina di cellulari. Materiale elettronico che i carabinieri agli ordini del capitano Luca Rossi hanno già recuperato. La speranza è che sui telefonini sia rimasta qualche traccia utile alle indagini. I varchi elettronici presenti sulla rete stradale valterinese possono fornire informazioni preziose, così come le telecamere di videosorveglianza. Molto probabilmente chi ha partecipato al blitz lo ha fatto con il volto travisato per tentare di nascondere la propria identità. Una volta completato l'inventario del punto vendita preso di mira, si potrà definire con precisione quanti smartphone manchino l'appello e di conseguenza il controvalore degli oggetti rubati. Gli inquirenti sono al lavoro, serrati i controlli attivati sulle strade della provincia di Sondrio. L'utilizzo di un mezzo a riete e le modalità con le quali è stato condotto il blitz fanno pensare a una banda specializzata e ben organizzata. Le indagini sono in corso e tutti gli sforzi sono diretti a dare un volto, un nome agli autori della spaccata. Ora parliamo di turismo. La prossima settimana le nostre stazioni scistiche potranno nuovamente accogliere gli esceatori amatoriali. Gli accessi alle funivie, alle piste saranno contingentati. Ecco le regole contenute nell'ordinanza regionale firmata dal presidente Fontana. C'è chi ha già confermato la ripartenza degli impianti per lunedì come Livigno, chi invece riaprirà le piste agli appassionati nel terzo fine settimana di febbraio. Ma una cosa è certa, l'ordinanza firmata dal presidente della regione a Tiglio Fontana che prevede la riapertura degli impianti agli sportivi amatoriali dal 15 febbraio. Provedimento che segue di pochi giorni l'approvazione da parte della conferenza delle regioni e della CTS delle linee guida per le aree inserite in zona gialla, regole che disciplinano l'utilizzo nelle stazioni e nei comprensori cistici di Schrift, seggiovie e cabinovie per scopi non agonistici. Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse mantenersi stabile, spiega la regione, gli impianti rimarranno aperti fino al 31 marzo. Come anticipato nei giorni scorsi, le linee guida approvate prevedono la riduzione della portata delle funivie e anche un numero massimo di presenze giornaliere sulle piste, che si può tenere sotto controllo con l'introduzione di un tetto massimo per la vendita di Schipass giornalieri. Confermata la percentuale del 30% di portata oraria complessiva per gli impianti a fune presenti nel comprensoriuscistico. Per le stazioni con al massimo due impianti, la percentuale sale al 50%. Finalmente, commenta Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega allo sport ai grandi eventi, riparte anche lo sport amatoriale di montagna. Un'opportunità in più per fare attività fisica, che è anche una vera boccata d'ossigeno per gli operatori del settore e per l'economia delle nostre montagne. Con il Via Libera, Seggiovie e Cabinovie e Schilift, sottolinea Massimo Sertori, assessore regionale della montagna, torna a splendere il sole sulle montagne lombarde. Oltre che agli operatori del settore, penso alle migliaia di attività montane che vivono intorno allo sci, da quelle alberghiere alla ristorazione a quelle commerciali. Parliamo ancora di sci, di sport, con i campionati del mondo di Cortina. Poca gloria per l'Italian, la prima giornata di gare a Cortina d'Ampezzo, dove oggi erano in programma i due Super G. La prova femminile, vinta dalla Svizzera della Ragutta, ha visto finire nelle retrovie la squadra azzurra, orfana di Sofia Goggia, infortunata. La migliore delle nostre è stata Federica Brignone, decima, davanti a Marta Bassino, solo diciottesima a Valterinese Elena Curtoni, che sarà in pista domani per le prove di discesa libera, disciplina a lei più congeniale. La gara si disputa sabato. Fuori dal podio anche gli uomini, Dominic Paris è giunto quinto, gli altri oltre il decimo posto. Troppi ammanchi i sospetti dalla contabilità di oltre 20 stabili. Nei guai un amministratore di condominio tiranese. Accertati ammanchi per 284 mila euro la finanza, gli sequestra due immobili servizio. Effettuava metodicamente prelievi di contante dai conti correnti dei condomini che amministrava o trasferiva degli importi tramite bonifici nazionali e internazionali su conti correnti a lui riconducibili e verso società estere di investimento. Ma questa condotta, protratta per più anni, ha finito per insospettire i residenti nei palazzi da lui amministrati perché i conti non tornavano e anche colleghi a lui succeduti nelle gestioni condominali che avevano rilevato sensibili ammanchi nelle casse di oltre 20 condomini. Sono scaturite proprio dalle numerose denunce da loro presentate le indagini eseguite dalla tenenza della Guardia di Finanza di Tirano agli ordini del capitano Marco Magliacane in collaborazione con la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Sondrio. Nei guai così è finito un amministratore di condomini del tiranese indagato per i reati di appropriazione in debita pluriaggravata e omessa dichiarazione dei redditi. Le indagini di natura finanziaria e documentale hanno fatto emergere sistematiche sottrazioni di denaro per un importo di oltre 284 mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio agli ordini del colonnello Antonello Reni hanno così proceduto ad eseguire un decreto di sequestro preventivo su due beni immobili di proprietà del professionista infedele emesso dal giudice per le indagini preliminari Pietro della Pona su richiesta del procuratore della Repubblica Ilvira Antonelli. Gli inquirenti hanno aggredito il patrimonio dell'indagato apponendo i sigilli su due unità abitative nella sua disponibilità situate nel comune di Tirano. Gli uomini delle fiamme gialle in sede di verifica fiscale spiegareni hanno proceduto a ricostruire i redditi non dichiarati al fisco dall'amministratore di condominio comprendendo anche i proventi illeciti conseguiti con le sottrazioni patrimoniali ricompiute. Grazie a questa ricostruzione sono state accertate imposte e vase per oltre 178 mila euro di cui il sequestro preventivo per equivalente sui due appartamenti. Nulla di grave fortunatamente per un 72 anni di Tresenda di Teglio è caduto al suolo ad un'altezza di due metri mentre potava una pianta. È accaduto oggi alle 13, l'anziano si trovava su una scala all'interno di un giardino privato quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra e riportando un trauma ad una spalla. Sul posto con i carabinieri della compagnia di Sondrio è intervenuta l'equipe medica nell'elicottero di Areu che ha soccorso l'uomo trasportato in ospedale a Sondrio e affidato le cure del personale del pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Conto a rovescia per organizzare al meglio le vaccinazioni degli ultraottantenni al via tra una settimana. Sul territorio si individuano i luoghi per la somministrazione. Intanto prosegue la campagna per farmacisti, dentisti e medici liberi professionisti. Vediamo. Giorni frenetici per le autorità sanitarie del territorio alle prese con l'organizzazione delle vaccinazioni contro il coronavirus per gli ultraottantenni al via da giovedì prossimo. Mentre sono in fase di definizione e dettagli per le prenotazioni in programma da lunedì presso le farmacie e i medici di medicina generale, ATS della Montagna procede in collaborazione con ASST, amministratori pubblici e operatori privati all'individuazione dei luoghi in cui avverrà la somministrazione dalle palestre agli oratori fino ai poli funzionali, ai teatri ma anche in alcune strutture sanitarie. Intanto prosegue la fase 1 bis della campagna con la somministrazione del vaccino all'ospedale di Sondrio, a farmacisti, dentisti, medici liberi professionisti e ancora personale delle residenzialità psichiatriche, della disabilità, operatori di assistenza domiciliare dei centri diurni. Soprattutto per noi che lavoriamo in mezzo al pubblico, a farmacia quindi con persone che possono avere disturbi anche legati al covid, può darci una certa tranquillità per poter portare avanti il nostro lavoro serenamente e vivere più tranquillamente. I farmacisti, protagonisti nella campagna di vaccinazione anti-covid per gli ultraottantenni, dal lunedì anche voi come medici di medicina generale, raccoglierete le prenotazioni. Guardi, così ho sentito, adesso mi informerò bene anch'io perché queste notizie viaggiano velocissime e tra l'altro arrivano sempre all'ultimo momento, ti piovono praticamente sulla testa, però ben volentieri perché ritengo la cosa molto importante per tutti. Ecco, quindi non mancherà il nostro appoggio a quello che è il lavoro contro questa pandemia. È una protezione per me, proprio come diceva lei per il lavoro, ma soprattutto invito tutti a vaccinarsi senza pensarci due volte perché è l'unico modo per riuscire a venire fuori da questa situazione che sta diventando veramente pesante. Devo riconoscere grande professionalità, competenza e soprattutto puntualità nell'esecuzione del vaccino. Ho deciso di fare la vaccinazione perché anche se sono in pensione continuo a prestare la mia opera per essere all'ILT, quindi incontro pazienti e non voglio rischiare di essere infettato, ma non voglio nemmeno rischiare di infettare qualcuno. Devo vaccinarmi prima perché è doveroso e perché i medici devono vaccinarsi per dare il buon esempio, poi perché lavoro ancora e vedo qualche paziente e quindi sono più tranquillo. E ora l'aggiornamento sulla diffusione del coronavirus tra i valtainesi e Valchiavennaschi nel report diffuso nel pomeriggio da TS della montagna. Ai sei morti registrati ieri si aggiungono in ultime 24 ore altre due vittime che fanno salire a 460 il numero dei decessi da inizio pandemia. Le persone risultate positive sono 26, di cui 4 ospiti delle case di riposo. Sul fronte dei guariti le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono 44 in più rispetto a ieri. Un anno di emergenza Covid ha lasciato ferite profonde nella nostra società, ma ci ha trasmesso anche tante lezioni. La più importante è che le sfide si vincono insieme, superando le differenze e guardando all'obiettivo comune. Una prima occasione di confronto, il convegno promosso dall'ufficio scolastico di Sondrio. Vediamo. A un anno dalla pandemia, come la nostra vita è cambiata improvvisamente, il convegno online promosso dall'ufficio scolastico territoriale di Sondrio ha offerto per la prima volta un'occasione di confronto fra le istituzioni su quello che ha rappresentato l'emergenza Covid nella nostra provincia, a partire dal dato sanitario. È stato un uragano, ha detto Lorella Cecconami, direttore generale di ATS della montagna, ma fare rete è stata l'arma vincente. Ora siamo nella fase discendente, ma non bisogna abbassare la guardia. Le cure sono migliorate, il vaccino ci dà fiducia. Tutto l'anno 2021 sarà un anno dedicato alla prevenzione, quindi alla diffusione della vaccinazione, alla copertura. Dovremo essere anche molto veloci, ovviamente compatibilmente con la fornitura del vaccino, a coprire, a vaccinare il più possibile le persone, ma sarà un anno 2020, 21 in cui dovremo ancora convivere con i nostri comportamenti corretti. Sta veramente a tutti noi proteggerci e proteggere tutta la comunità, perché solo così forse riusciamo a evitare la terza ondata. Tommaso Saporito, direttore generale di ASST Valtellina e Alto Lario, ha sottolineato l'impegno che la rete ospedaliera ha profuso per fronteggiare l'emergenza. Siamo arrivati a dover ricoverare 240 pazienti contemporaneamente nell'ospedale di Sondalo covid positivi. A Sondalo eravamo con 24 posti letto di terapia intensiva, d'accordo, e con siamo partiti che normalmente ne ha 6. Importante è anche l'organizzazione dei tamponi in ospedale e sul territorio, scuole comprese. 95.000 quelli effettuati in un anno, obiettivo arrivare a poterne processare 600 al giorno, ora siamo a 250. Soddisfatto per l'esito dell'iniziativa, il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari, che invita le scuole a far tesoro di questa opportunità e stimolare interesse nei ragazzi. Perché si capisca che questa storia che abbiamo raccontato è storia loro, è storia recente e che li deve coinvolgere, li deve vedere come protagonisti. Questo è quello che io mi aspetto da questo momento, che è stato forzatamente breve per le tante persone che sono intervenute, ma che deve essere il seme che provochi curiosità, domande, ricerche. Per cui davvero un ringraziamento a tutti. Potete sempre contare sull'ufficio scolastico, perché abbiamo bisogno di aiutare i nostri ragazzi a crescere, a crescere consapevolmente, ad essere veramente consapevoli della realtà in cui stanno vivendo. Cordoglio e commozione nel Sondriese per la scomparsa di Luigi Vitali, 79 anni, di Sondrio, rinomato farmacista di Albosaggia. Vitali, molto conosciuto in provincia per il suo lavoro, si è spento a causa di una terribile malattia contro la quale lottava da tempo e che non ha lasciato scampo. Una perdita che ha gettato nel dolore la moglie Gloria e la figlia Marcella, alle quali Teleunica manifesta vicinanza in questo momento terribile. Ricordo l'appuntamento sul web, il nostro sito è teleunica.com, la nostra presenza sui social. A seguire le previsioni meteo, buona serata.